... Lei è qui volontario? Sì. Cosa fa? Beh, un po' di tutto. Ci arrangiamo. Per esempio? Non so. Il muratore, si fa i peccisti, si fa i palignami, idraulici, un po' di tutto. Però c'è da fare. Ho svolto il lavoro, ma praticamente che potevo essere utile a qualsiasi lavoro. Non specializzato, però manovale, insomma, facevo di tutto. Dove mi chiamavano, ci andavo, insomma. Io praticamente faccio il meccanico, però qua mi do per fare dello sport per i giovani, per l'avvenire dei nostri figli. Questo campo che viene realizzato su un appestamento messoci a disposizione dal comune, dall'amministrazione comunale di Modena, e che si estende complessivamente a 18.000 metri quadri, comprenderà otto campi da bocce, due campi da tennis, una pista per patinaggio e hockey, un campo di pallavolo e un campo di pallacanestro, oltre una grande pista ciclabile per ragazzi. Signora, cosa pensa del campo polisportivo che stanno costruendo qui davanti? Vabbè è una bella cosa, specialmente per me che sono dei bambini, così li metto lì, fanno dello sport. Signora, signora, lei che sta in finestra, che cosa pensa di questo campo polisportivo che stanno costruendo qui davanti a lei? Penso una bella cosa, no? Perché è una bella cosa? È poco distante. Come? C'è, divertimento è poco distante, no? E lei, signora, scusi, lei, che cosa pensa di questo campo polisportivo? Uguale, per i bambini, per i grandi, per tutto, una cosa bella. Lei ci andrà, lei farà dello sport? Io dello sport no, ma ci accompagno mio nipote. E lei? Io no, oramai ho metà che... No, no, la persona che sta accanto a lei. Io sono già impressionato, già tanto, tante volte vado lì, a passarmi qualche ora. Già capace? A bocce, a carte, tanti e tanti divertimenti.